Finalmente tornano a vincere questi bubble, oggi abbiamo visto una grande squadra C'è un motivo, chi è che è rientrato? Chi è rientrato? Ah il capitano Il capitano è rientrato, hai visto? Che lascia subito il segno no? Un bello partito Oggi io direi che Montalto sciocco Montalto vieni qua Gli abbiamo fatto due quattro anni E' sprecato come portiere allora Montalto E' sprecatissimo Vi ha dato una grossa punta Vi ha dato una grossa mano Ecco qua Montalto Abbiamo fatto tre quattro assist Quindi Montalto torna Gol Gli abbiamo fatto anche Topolino Però c'è sempre C'è sempre E poi oggi uno due Tutti in un gioco bene, veramente Di prima Quindi Montalto abbandona i pali Dando spazio a Delizio, articolo 11 Ringraziate gli avversari Ringraziamo Speriamo che ci sarà sempre St'articolo 11 Sarebbe una cosa bella Non credo che ce lo concederanno ai play-out però No, play-out pensi Bravo! Ma che play-out? Ora, trencozzata anche lì Addirittura Sì, siamo soltanto a due punti A diunti anche Ci sono nove punti a disposizione Magari sette Sì, magari sette Se ne vinciamo tutte a quella fine Può essere che pareggiamo tutte le squadre Da quella fine Sì, è una cosa incredibile Tutti si ritirano Non vengono al torneo Piero fallisce C'è anche Stefano Amoroso Si punta per fuori capocannoniere Con sole quattro giornate Era sprecato come portiere Tutti lo dicevano Questi atletico scaglione Diciamo Come vi sono sembrati secondo voi? Vabbè, hanno giocato Soprattutto nel primo tempo Hanno giocato C'hanno messo Un po' spregoni in attacco Hanno sveto qualche cosa di top in attacco Ma sono calati nel secondo tempo Perché ne abbiamo fatto voi con l'ultimo Una buona squadra Corrono, corrono tutti Però a prossimo turno Avete gli Space Jam E partita sarà? È una partita tosta, fisica Accetteranno l'articolo 11? Speriamo Mi metterò il pinocchio davanti a Ciccio E Pep pregando di un articolo 11 Sì, dai Migliore in campo di oggi? Ah, senza dubbio Non c'è daicolo Non è montato Però diciamo che tutta la squadra ha giocato Sì, sia peggioro da tutti Comunque migliore in campo è montato E quest'altra Non cediamo Alla grado Va bene ragazzi Complimenti per la vittoria Vediamo finalmente i bubble salire No? Sì, è dove? Cioè, se si pregiamo le posizioni Eh, vabbè Ciao ragazzi Alla prossima Ciao, ciao, ciao